Omega Basket e Fitness World Palestre, un connubio davvero vincente. Siamo stati alla giornata di dimostrazione dell'Omega Basket all'interno del complesso Fitness World. Ma vediamo com'è andata dall'intervista a Jessica Salerno per la Fitness World e a Alessia Nino, il presidente dell'Omega Basket. Qui alla Fitness noi ci occupiamo di questo, di benessere in generale per i grandi ma anche per i piccini. Ci sono anche diverse attività per loro, facciamo il Jiu Jitsu, noi ad esempio all'interno per i bambini. E questa mattina abbiamo voluto appunto dare un po' di lustro, un po' di visibilità alla pallacanestro che magari non è ancora conosciutissimo a Mister Bianco come sport e soprattutto non è praticata da moltissimi bambini. Ritengo che sia un ottimo sport di squadra per farli giocare tutti insieme, per farli conoscere un po' le regole del gioco e dello stare insieme appunto senza litigare ma per il semplice piacere di giocare. L'Omega Mister Bianco è diventata una bella realtà, è una realtà che è nata quattro anni fa e ci siamo impegnati in questi quattro anni per promuovere la pallacanestro a Mister Bianco. I bambini stanno assieme, si divertono, giocano, si conoscono e quindi noi diciamo siamo pienamente soddisfatti di questo evento che abbiamo fatto oggi assieme alla Fitness World che è la palestra che ci ha ospitato che ringraziamo tantissimo per averci dato la possibilità di montare il campo fuori. Noi abbiamo anche un'attività agonistica che riguarda i gruppi giovanili, l'Under 18, l'Under 14, l'Under 13. Poi abbiamo il mini basket. Diciamo che la nostra intenzione è quella di far crescere tanto il mini basket perché i bambini devono iniziare da subito a fare sport. Per la pallacanestro cercateci sulla nostra pagina Omega Mister Bianco, trovate i numeri di telefono e ci venite a trovare. Altrimenti cercate di fare altri sport ma non lasciate i bambini a casa davanti alla televisione.